accadde un giorno che trovandosi insieme decisero di fare un accordo di raggiungere o almeno tentare di raggiungere il loro obiettivo adesso raccontiamo l'avventura di sette mazze anzi di sette scattiate come si diceva Augusta dobbiamo andare a... a... non lo possiamo dire, comunque non vinci per me, ecco, è partito in Vindina il castello sveu di Augusta va aperto e va aperto perché non mi potete lasciare fuori il conte che abita lì porca miseria Siamo, come si dice, de gustibus, no? non disputandum non disputandum, certo, per quello motivo bisognerebbe disputandum V uhuhuhuhhhh tuttiii, eิcekotiki decisero perciò di seguire o inseguire, sono punti di vista considerato che l'obiettivo si spostava la realizzazione di un sogno Grazie a tutti